Ti chiedo se ne avete parlato fra di voi, se c'è un'attesa speciale anche per voi, primo, insomma per chi non ci sarà, secondo perché sembra che c'è un campo davvero splendido che ti invita a giocare, tu qui ci hai giocato solo da avversario, magari insomma sei curioso anche tu di vedere che effetto fa a giocare la torna dei Carpi. Sì, no, siamo tutti contenti di tornare a Carpi perché sicuramente c'era una grossa mano nel pubblico, qui in casa. Il campo sicuramente sarà migliore rispetto a quello che abbiamo provato nelle scorse partite, quindi sicuramente sarà una cosa positiva domani. Una curva così vicina sicuramente ci aiuterà nei momenti difficili, si vede che quando andiamo già in casa, comunque le curve quando si fanno sentire aiutano sempre, quindi sicuramente c'era una grossa mano. Il ritorno a casa arriva in un buon momento dopo questa bellissima vittoria di sabato, il Carpi sta spiccando il volo secondo te? Beh, sicuramente racconto l'Italia vince con lo Spezia, perché c'era un po' la vittoria perché era da tanto che non arrivavo. Poi adesso c'è una partita che non è tutta la linea che non dobbiamo assolutamente sbagliare. Latina, tua ex squadra, viene da una bella vittoria. Che avversario sarà se lo conosci magari un po' meglio di tua compagna, anche se è diverso, ma è tua Latina e che partita perfetto. Sì, no, qualche ragazzo è rimasto lì, sicuramente ha sempre la stessa voglia di intensità che ho visto nell'ultima partita che ho fatto. Noi dovremmo soltanto pensare a noi, ad entrare in campo e non lasciare il proprio spazio per attaccare. La Spezia è stata una partita abbastanza particolare, nel senso che si è tornata in difficoltà, quindi a quando siete riusciti a riuscire fuori, in questo senso, ma niente, per merito vostro. Chiedo se secondo voi, che avete parlato di alcune cose, quella può essere considerata un pochettino la gara della svolta, anche a livello di risultati. Sicuramente dovremmo fare noi che sia la gara della svolta, quindi da sabato torniamo a dare continuità a questa mosquina. Possiamo dire sì, la gara della svolta, ma se noi sabato non ci metteremo in campo con questa mentalità, sarà una partita che abbiamo molto vasto, invece dovremmo dare continuità a questa vittoria che abbiamo fatto. Tu, insomma, hai fatto un anno di Serie A, tra carte e bologna, ti chiedo, tornando in lì, che livello hai trovato, a livello generale, e se la classifica all'unimento ti sorprende oppure per te, insomma, che l'hai fatta da protagonista, sia da film, di Panacredossi, e, insomma, potrebbe essere una cosa normale. Beh, guarda, io sinceramente non guardo la classifica, perché siamo ancora l'ottava giornata, ma, quindi, ancora c'è poco di concreto. Penso a fare ogni partita, penso pure noi ragazzi, tutta una squadra, a fare partita per partita, cercando di portare a casa sempre i due punti, un po' più. Quindi siamo una meno di una delle altre ceste, quindi siamo una delle favorite sicuramente, però noi dobbiamo guardare adesso, dobbiamo guardare poi un capo.